Benvenuti nella formazione in cloud di Automotive Global Service. Questa prima lezione tratta il funzionamento di un cambio automatico con convertitore ed epicicloidale. È una base di partenza volutamente generica come informazione per uniformarci tutti per il proseguo delle 15 lezioni che saranno invece molto specifiche. Di nuovo benvenuti e buona visione. Vediamo ora i componenti interni a un cambio automatico, quindi parleremo di convertitore epicicloidale e dischi, freni e frizioni. Il convertitore si presenta come una ciambella metallica. È inserito tra il motore e il cambio e fa la funzione della frizione tradizionale ma in modalità idraulica. Il circuito idraulico si compone di una pompa, di un gruppo idraulico, di un sistema di raffreddamento. La pompa del cambio si trova subito dietro il convertitore e ha il compito di pescare l'olio dalla coppa e metterlo in pressione nel circuito. La pompa può essere a ingranaggi o a paletta e viene attivata attraverso la girante della pompa del convertitore, quasi agli stessi giri del motore. Ve ne ho già parlato quando nella sezione mecatronica vi ho spiegato come fa la centralina a fare il cambio marcia. Nella sezione diagnosi siamo nelle stesse condizioni, ovvero, prima di dire che il problema è del cambio automatico, devo essere sicuro che tutti i parametri indiretti che arrivano alla centralina elettronica siano a posto e allora a questo punto mi concentro sul mio cambio automatico. Le fasi di un controllo su un cambio automatico sono le seguenti.